registrazione 4k massimo 10 minuti da oneplus 2 bella giornata come detto anche nell'altro video quindi cambio di luce e di messa a fuoco qui davanti di nuovo all'infinito facciamo lo zoom digitale che sembra essere un po più di un 4 per torniamo indietro rapido movimento registrazione video 4k da oneplus 2